Per l'Inter conclusione non proprio felice di una settimana che ha visto le lacrime del presidente Frezzoli nel comunicare la rinuncia alla presidenza. I narazzurri sono andati in vantaggio con questa autorezza di Manfredonia sul tiro di Muller al decimo del primo tempo, 1-0. Contro la Lazio che non faceva punti fuori casa da ottobre, poteva essere un buon inizio. Invece la Lazio ha pareggiato al diciottesimo della ripresa con punizione per fallo di Serena su Vinazzani. Deviazione di Manfredoni e suo accompagnamento di Zenga la palla andava in rete 1-1.